500.000 euro tra auto, case e conti correnti. Attanto a Monte il maxi sequestro condotto stamane dal comando provinciale delle Fiamme Gialle di Pescara. Il piccolo tesoretto apparteneva ad un noto esponente della famiglia Rom Cirelli, dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti nell'Interland pescarese. I sigilli dell'autorità giudiziaria sono stati apposti su una casa nel quartiere Rancitelli di Pescara, su un'autovettura e su due conti correnti postali con una disponibilità di circa 120.000 euro. Come da cliché per questo tipo di sequestri, il 23enne Rom era assolutamente sconosciuto al fisco, non avendo mai presentato dichiarazione dei redditi e soprattutto non avendo mai svolto attività lavorativa.